Saluto a tutti e bentornati a Fisicamente. Oggi rispondo alla domanda perché i satelliti artificiali, quelli che ci promettono di vedere la televisione con la parabola, non ci cadono sulla testa. Rispondo a questa domanda perché mi è stata chiesta da mia zia, ciao zia, e questo sarà anche il video per iniziare a rispondere a un'altra domanda che mi è stata fatta da uno dei miei iscritti. Questa domanda era come faccio a calcolare il carburante di cui hanno bisogno i razzi per portare i satelliti in orbita oppure per fare le nostre missioni spaziali, per esempio per portare gli uomini sulla luna e via dicendo. Per rispondere a questa seconda domanda dovrò fare diversi video perché vi devo raccontare tante cose, quindi piuttosto che farvi un video di un'ora in cui vi spiego esattamente tutto quello che c'è da sapere per capire e arrivare a quantificare quanto carburante mi serve, vi faccio dei diversi video, aprirò questa rubrica su l'astrodinamica, l'astronautica e vi dicendo e piano piano ci arriveremo. Ma oggi rispondiamo alla domanda perché i satelliti non ci cadono sulla testa? Allora, iniziamo a dire che i satelliti sono quelli artificiali che noi conosciamo, che ci servono appunto per vedere la televisione con l'antenna parabolica, però sono anche i satelliti naturali e la Terra ne ha uno di satellite naturale e la Luna. E alla fine di questo video quello che vi spiegherò varrà per entrambi, sia per i satelliti naturali che per i satelliti artificiali. Allora, ieri abbiamo visto con il video sulla forza centrifuga, vi metto il link nella descrizione, che questa forza centrifuga è una forza che ogni volta che noi stiamo facendo una curva, è quella forza che ci cerca di spingere verso l'esterno di questa curva. Ossia, quando io sto facendo un cerchio intorno ad un determinato centro, questa forza centrifuga cerca sempre di spingerci più lontano possibile da questo centro intorno a cui noi stiamo girando. I satelliti che stanno girando intorno alla Terra sentono esattamente questa forza centrifuga che cercherebbe di spingerli lontano dalla Terra. Però esiste anche un'altra forza, che è la forza di gravità. Quella forza che ci permette di vedere che quando mollo un oggetto questo cade, ossia sta cercando di andare più vicino possibile al centro della Terra, questa forza di gravità agisce sugli oggetti qui, sulla superficie della Terra, ma anche sui satelliti che sono a centinaia o migliaia di chilometri sopra alle nostre teste. Questa forza di gravità va a contrapporsi alla forza centrifuga. Quindi la forza di gravità cerca di tirare il satellite verso di noi, verso, mettiamole così, cerca di tirare i satelliti verso il centro della Terra e la forza centrifuga cerca di spingerli verso l'esterno. A un certo punto si genera un equilibrio tra queste due forze e quindi il satellite riesce a fare, questa è la Terra, riesce a fare un'orbita in equilibrio intorno alla Terra. Ed è abbastanza stabile quest'orbita proprio perché le due forze di gravità e centrifuga si equivalgono. Questo è qualitativamente. Quindi è come se gli oggetti, i satelliti sia artificiali, ma anche la Luna, stiano costantemente cadendo verso di noi. Però c'è una sorta di equilibrio tra la forza gravitazionale e la forza centrifuga che tenderebbe a spingerli verso l'esterno. C'è proprio questo equilibrio, quindi loro stanno cadendo sempre verso di noi, però rimangono nell'equilibrio, proprio perché stanno anche viaggiando nella loro orbita intorno alla Terra. Se andiamo adesso a vedere le cose in maniera un attimino più quantitativa, quello che potrei fare è prendere la formula che ci dice quant'è la forza di gravità che ci sta tirando verso il basso, prendere la formula che mi dice quant'è la forza centrifuga che invece ci starebbe spingendo verso l'esterno, e se noi mettiamo un uguale tra queste due formule, perché questa è la condizione per avere un'orbita stabile, che le due forze si equivalgono, se noi mettiamo dentro queste formule, arriviamo a ottenere un valore, un risultato molto molto interessante. Questo risultato ci sta dicendo che per avere un'orbita circolare stabile, un oggetto ad una determinata distanza dal centro della Terra deve anche avere un determinato periodo in cui fa il suo cerchio intorno alla Terra. Il periodo è il tempo che ci mette un satellite a percorrere la sua orbita intorno alla Terra e tornare esattamente allo stesso punto. Queste formule ci stanno dicendo che a seconda della distanza dal centro della Terra, un satellite deve avere un determinato periodo. Se questo periodo è troppo piccolo, vuol dire che sta girando troppo velocemente, quindi la forza centrifuga vince e quindi questo satellite scappa, va a perdersi, quindi non è in orbita stabile. Se invece questo periodo è troppo piccolo, vuol dire che il satellite sta viaggiando troppo lentamente, la forza di gravità è più grande della forza centrifuga e quindi piano piano questo satellite spiraleggia e va a cadere sulla Terra. La condizione di equilibrio è quando ad un determinato raggio dell'orbita, ad una determinata distanza del satellite della Terra, io ho esattamente il periodo giusto per far fare al satellite un giro completo e rimanere in quest'orbita stabile. Non deve andare più veloce, non deve andare più lento. Questa è la terza legge di Kepleron, piccola parentesi tecnica che chiudiamo, che mi sta dicendo che il quadrato del raggio cresce come il cubo del periodo, questo mi sta dicendo che se io aggiusto il raggio, ossia voglio allontanarmi dalla Terra, quindi il raggio è un po' più grande, devo anche aggiustare il periodo. Chiusa la parentesi tecnica. Detto questo, allora vuol dire che se io ho un satellite molto vicino alla Terra, in quelle che si chiamano le orbite basse, LEO in inglese, Low Earth Orbit, questi satellite devono girare abbastanza velocemente intorno alla Terra. Hanno dei periodi che possono essere di alcune ore. Per esempio, quelli che noi vediamo di notte, se siamo lontani dalla città e alziamo il naso di notte, vediamo degli oggetti, come delle stelline che passano sopra le nostre teste. Questi sono tutti satelliti in orbite basse, ci mettono qualche ora a fare un giro completo intorno alla Terra e sono quelli che utilizziamo per satelliti di meteorologia, satelliti di comunicazione, i satelliti standard. Più ci allontaniamo, più questo periodo aumenta. Aumenta fin quando, a un certo punto, il periodo di rotazione intorno alla Terra di un satellite raggiunge le 24 ore. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se questa è la Terra, un satellite ci mette 24 ore per fare un giro intorno alla Terra. Ma anche la Terra ci mette 24 ore per fare un giro intorno a se stessa. Perfetto. Cosa abbiamo raggiunto? Abbiamo raggiunto il fatto che questo satellite gira insieme alla Terra, nel senso che questo satellite sarà sempre nella stessa posizione per noi osservatori su un punto della Terra, per esempio a Roma. A Roma io sto guardando in una determinata posizione, se io so che lì c'è il mio satellite per vedere i programmi dell'America, io punto la mia parabola lì e adesso noi sulla Terra ci stiamo girando, facciamo un giro completo in 24 ore, che è la stessa cosa che fa quel satellite, gira insieme a noi in esattamente 24 ore ed è per questo che rimane lì fermo. Se adesso vogliamo vedere i canali dell'Australia, magari dobbiamo puntare la nostra parabola in un'altra direzione dove sappiamo lì esserci il satellite che mi fa rimbalzare i segnali che mi vengono dall'Australia. Tutti questi satelliti sono chiamati geostazionari, ossia che ruotano intorno alla Terra in 24 ore, quindi seguono e rimangono fermi se noi li stiamo guardando dalla superficie della Terra. Questa situazione avviene ovviamente ad una determinata distanza, quello che succede è che intorno alla Terra c'è un cerchio pieno di satelliti e lì sono parcheggiati tutti i satelliti geostazionari che noi utilizziamo per vedere la televisione, per le comunicazioni e via dicendo. Se andiamo al di là, se non mi ricordo male, sono 36 mila chilometri, questa è la distanza dei satelliti dal centro della testa, quindi sono a migliaia di chilometri lontani da noi. Se noi a questo punto ci allontaniamo il periodo deve essere più grande e quindi ci metterà non molto di più a girare intorno alla Terra. Un tipico esempio è la Luna. La Luna è a mezzo milione di chilometri da noi, ci mette 28 giorni a fare un giro intorno alla Terra. Se fossimo più lontani ci metteremmo ancora di più, siamo più vicini ci mettiamo di meno. Addirittura per esempio gli ultimi satelliti, quelli famosi che magari avete sentito gli Space X, quelli che ha lanciato Space X che dovrebbero facilitarci in qualche anno ad avere una connessione internet migliore e sono chiamati Starlink mi pare. Questi hanno un periodo di poche ore, vi metto il link nella descrizione, voi potete proprio vedere sulla mappa della Terra, voi li vedete andare e ieri mi sono divertito a vedere che dei satelliti che qualche minuto prima erano in Brasile, dopo pochi minuti li vedete proprio attraversano tutto l'oceano Atlantico e arrivano sopra l'Italia. Tra parentesi, se questo progetto va veramente in porto per gli astronomi sarà un disastro perché ne lanceranno non so quante migliaia di questi satelliti sarà un disastro per le osservazioni astronomiche. Comunque, quindi questo per dirvi che le orbite per essere stabili devono seguire la compensazione della trazione gravitazionale della forza centrifuga. Più siete lontani, più tempo vi ci vuole per fare un giro completo, più siete vicini, più dovete andare veloci. Spero di essermi spiegato abbastanza bene, l'argomento non è facilissimo, però questo era il mio tentativo di spiegarlo. Se avete domande come sempre scrivetemela nei commenti, autostoppista, iscrivetevi al canale e buona giornata a tutti.